Ciao a tutti, benvenuti su Pequod. Oggi parliamo di Tex, di un Tex archeologico, cioè ritrovato e riportato alla luce e delle novità di Tex in vista di Lucca 2023, ovvero le novità editoriali che la Bonelli porterà su Tex Wheeler. Vediamolo insieme. Innanzitutto c'è da dire che le scoperte archeologiche sono per me molto affascinanti, nel senso che si riporta alla luce qualcosa del passato rimasto celato alla nostra vita, ai nostri sguardi, per moltissimi anni, se non per millenni. Non è il caso di Tex, ovviamente, però c'è questa riscoperta che è stata fatta in casa Bonelli e che fa tornare in auge una storia dimenticata negli archivi, nei cassetti, nei meandri di Via Buonarroti o di chissà quale altra casa, di una storia di Tex scritta da Gianluigi Bonelli e Sergio Tarquinio. Oggi vediamo insieme di cosa si tratta, giusto due cosette, perché è una cosa interessante e poi vediamo le novità che la Bonelli porterà a Lucca sul Ranger del Texas. Ok? Allora questa è Ombre di Morte. Copertina fatta appunto di sana piante per questa occasione e non è un fumetto da edicola. E attenzione, tutto quello che vedremo oggi, anche le novità di Lucca, saranno ovviamente fumetti texiani, ma da fumetteria e libreria. Gianluigi Bonelli, Sergio Tarquinio, Ombre di Morte. Una storia inedita, appunto, di questi due autori, ritrovata negli archivi della casa editrice. Così è. Vai a capire, e ovviamente spero di no, che questo non sia un processo, come dire, di marketing, di vendita per far, ecco, no, vendere di più. Può succedere che queste cose accadano, ma non penso che la Bonelli abbia bisogno di fare questi sotterfuggi per arrivare a tanto. Ci piace più l'idea che questa storia sia stata veramente ritrovata, persa, ecco, negli archivi veramente della Bonelli e che ora venga riproposta alla luce per i lettori e messa a disposizione. Ci piace più questa storia. Ok? Allora, il costo del volume è di 29 euro. È un cartonato bianco e nero e colori, formato 22x30, con tanto di pagine, ovvero 216. Un gioiello perduto, scrive la Bonelli, è ritrovato. Una storia ideata dal creatore di tex, appunto, Gianluigi Bonelli, è illustrata da Sergio Tarquinio. Per anni è rimasta misteriosamente celata nell'ombra. È finalmente pronta per essere proposta ai lettori. Un imperdibile pezzo da collezione che porta con sé il sapore e le atmosfere del più autentico fumetto bonelliano. Vedi oggi la luce in una edizione impreziosita dalla riproduzione integrale della sceneggiatura originale che la Bonelli metterà in calce al fumetto, ma non sotto forma di scrittura, da quanto dicono loro, ma sotto forma di disegno. Staremo a vedere. Quindi questa è la copertina che dovrebbe essere anche definitiva, di Ombre di Morte. Il titolo è molto bello, anche se questa copertina è un po' particolare. Nella preview che è uscita di Bonelli e Bao Publishing dicono che sia una copertina in lavorazione. La repubblicano sulla pagina Facebook uguale, quindi secondo me non è questa, ma dovrebbe essere un'altra. Si spera perché non è bellissima. Non trovo delle tavole da farvi vedere, però vedremo, vedremo. Le altre novità sono, e ve le dico subito, la nuova edizione di questo fumetto, ovvero La Valle del Terrore, è il texone di Magnus che hanno ristampato perché quando uscì nel 2020 andò subito a ruba. Il prezzo di copertina è di 36,90€. Data di uscita, 17 novembre, o per chi si troverà a Lucca, ovviamente lo prenderà a Lucca. Queste che vi dirò, compresa anche Ombra di Morte, saranno appunto le novità di Lucca Comics 2023, riguardo solo tex. Poi ci sarà appunto l'edizione in formato gigante, con carta di pregio, di De, scusate, Il segno del serpente, lo speciale tex disegnato da Aurelio Gallepini su testi di Claudio inizi, pubblicato per la prima volta nel 1990. 240 pagine, a soli 36,90€. Tanta roba, tanta tanta roba. E questa è l'altra copertina, in versione cartonata, con questo tessuto che sembra quasi aiuta, non lo so, non lo so. I prezzi non sono indifferenti, perché sono bei prezzi, devo dire, però, ragazzi, se amate tex, va. Io penso che prenderò, quando uscirà, Ombre della Morte, cioè ovvero la storia ritrovata di tex. Però sapete, se qualcuno lo ama, ci sta. Inoltre, conterrà una stampa esclusiva su carta di pregio di un disegno di Gallep, a un prezzo di 69,90€, per aggiungere tutto ciò al carrello. Quindi, se andrete a Lucca e prenderete solo roba di tex, già se ne vanno almeno tra i 150 e i 200€. E' tanta roba. Fatemi sapere se conoscevate queste novità lucchesi, ma soprattutto il tex ritrovato. Fatemi sapere se andrete a Lucca. Io, ahimè, non ci posso andare quest'anno. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Anche delle edizioni di tex, dei costi che hanno di copertina e via dicendo. Comunque, sì, c'è tanta roba. Ma la cosa più interessante, appunto, è il tex ritrovato di Gallepini e Tarquinio. Staremo a vedere, ovviamente, se la storia anche oggi merita. Anzi, nel 2024, e questo ve lo dico anche ora, in chiusura, Mauro Boselli ha già scritto, ovviamente, e uscirà, penso, nei primi mesi del 2024, un seguito del tex di queste ombre di morte. Quindi, anche lì ci sarà da aspettare un pochettino, ma avremo un sequel, una continuazione di queste ombre di morte. Da che non esisteva, da, appunto, avere anche già un seguito pronto. Questa è la Bonelli, ragazzi. Ciao a tutti, al prossimo video.